Ciao, sono Fabrizio, caro figlio, sono del Free Time e veniamo da Bari. Abbiamo scelto questo torneo per condividere questa bella organizzazione con i nostri bambini che da come stanno andando le prime partite, da come è andata già tutto il viaggio, si stanno divertendo ed è questa la cosa più importante per loro e per noi. I genitori, abbiamo visto, sono molto entusiasti, quindi innanzitutto complimenti a chi ha organizzato tutto il torneo e insomma è veramente un piacere. È solo il primo giorno e speriamo e sicuramente domani e dopodomani ci divertiremo ancora.